Tutte le esperienze dei docenti e del tavoliere pedagogico pugliese sono finite nel libro Teacher Education in Puglia. Gli atenei di Bari, Foggia e Salento hanno collaborato sotto la direzione degli autori del volume Loredana Perla e Massimo Tempesta. Ma come si formano i formatori? È intorno a questa domanda che è nata la collaborazione con le università francesi di Lorraine e Nantes e con quella di Valencia in Spagna. L'obiettivo è mettere a confronto le differenti esperienze per offrire un respiro internazionale agli studi dei ricercatori. Ma quanto questo è utile ai fini della didattica? La preparazione dipende dal docente al docente. Ci sono docenti più preparati, docenti meno preparati. C'è un po' di superficialità. Dovrebbero mettersi nei panni nostri, insomma, e capire che non sappiamo tutto. Cosa dovrebbero fare i professori per coinvolgere di più gli studenti? Chiedere più volte se è tutto chiaro, fare più esempi, magari non andare avanti spediti. Se un docente, a mio parere, non sa prendere la classe, ovviamente la classe non seguirà la sua lezione, la sua materia sarà poco valida o meglio, poco apprezzata e poco seguita.